Vinicio Marchioni, Villetta con ospiti, torna al cinema di De Matteo, ci sei anche tu in un ruolo che non ti sta tanto bene, perché tu sei buono, si vede dalla faccia. E' un onore essere in questo film con un cast di superattori e attrici, oggi non c'era Michela Cescone, la protagonista femminile di questo film, faccio un prete non proprio cristallino, purtroppo viviamo in un'epoca in cui anche la Chiesa sta subendo dei colpi su colpi, è un parroco di questo paese del nord-est che è riuscito a costruirsi la fiducia di tutti i parrocchiani e delle parrocchiane e dietro questa fiducia si nascondono delle ombre, come tutti i personaggi di questo film. E' un ruolo che non capita tutti i giorni ed è stato bellissimo cercare di farlo nella maniera più credibile possibile naturalmente e non è lontano dalla realtà, perché ne abbiamo conosciuti con Ivano di preti di quarantenni ai tanti che hanno un proprio modo di svolgere la professione, se così si può dire, di parroco. E' stato anche divertente ed è un ruolo e un film che va in profondità, come tutte le cose di Ivano, di Matteo, e anche per questo lo ringrazio, perché è un regista che fa sempre dei film che hanno una profondità di analisi e che richiedono quindi un coinvolgimento da parte degli attori al 100%. E del pubblico, no? Perché il suo cinema ci fa sempre chiedere cosa farei io dal posto loro, chissà se capitasse a me. Sì, devo dire che è una forse delle particolarità del cinema di Ivano di Matteo, che fa uscire il pubblico dalla sala con tante domande. In uno dei paesi più ignoranti d'Europa, dove ogni giorno mi sembra che le persone abbiano sempre meno voglia di pensare, mi fa immensamente piacere essere nelle sale con un film di Ivano di Matteo, con questo film, perché è un film che ti si attacca da qualche parte, non ti molla per qualche ora e ti fa, come dico sempre, fa un sacco di cerchi. Lancia dei sassi che fanno un sacco di cerchi nello stagno della nostra anima e quindi spero che il pubblico vada a vedere questo film per farsi delle domande, perché il cinema è vero che è un intrattenimento sicuramente, però è un'arte anche che forse ne racchiude moltissime altre, di arti, e racchiude anche la possibilità di stare per due ore a occuparsi di noi e di riflettere su quello che siamo, noi, proprio da soli, noi, senza nient'altro intorno. Grazie Vinicio. Grazie a voi. Complimenti per i soliti ignoti che sta andando benissimo. Grazie, sì, sta andando molto bene, sì, sì, continueremo la tournée fino al 22 di marzo, quindi sta andando molto bene. Grazie mille. Grazie a te, ciao.